1993-2023. Sono passati ben 30 anni dall'entrata in vigore della legge che ha istituito l'elezione diretta del sindaco di ogni comune d'Italia. Questa è la difesa di 26 marzo 2023 e abbiamo scelto di aprire su questo tema perché riteniamo fondamentale per l'oggi e per il futuro l'assetto del nostro territorio, la modalità con il quale sarà amministrato, le scelte strategiche oltre che appunto amministrative si avrà il coraggio di prendere per riuscire a dare un assetto moderno, un setting contemporaneo in grado di rispondere ai bisogni crescenti della cittadinanza. Quindi carissimi amici, carissimi lettori, abbiamo deciso di concentrarci proprio su questo perché dalla nostra inchiesta i sindaci da quel momento hanno avuto sicuramente più poteri ma si sono anche sentiti più soli come vedete dalla nostra copertina. Dunque due pagine 4 e 5 dedicate a questo tema. Allora guardate cosa scrive il nostro Claudio Baccarinna. Prima del 1993 era il sistema basato sul dominio assoluto dei partiti come dice il professor Luciano Vandelli. Si eleggevano i consigli comunali che secondo un sistema rigorosamente proporzionale le riflettevano tutti anche i partitini di più modeste dimensioni. Quindi è stata fatta una scelta in base alla governabilità. Che cosa ci dice però Paolo Giaretta che al tempo era sindaco proprio qui a Padova? Beh sostanzialmente ci dice come potete vedere che la vera differenza rispetto a 30 anni fa è che il consiglio comunale ha gradualmente assunto un ruolo marginale. Parla Giaretta, parla Giordani ma parlano anche Katia Maccarrone che è la sindaca di Campo San Piero, Giuliano Martini sindaco di Vaux che abbiamo visto gestire la pandemia all'inizio e anche Francesco Vessio sindaco di Codevigo e leggete un po' le loro testimonianze su cosa significa oggi fare il sindaco con invece l'attuale legge che tutti noi conosciamo e attraverso le quali tutti noi votiamo. Allora sabato 18 marzo è stato eletto Adriano Bordignon nuovo presidente del forum nazionale delle associazioni familiari prende il testimone da Gianluigi De Palo che penso molti di voi avrete conosciuto. Il giorno dopo o due sono usciti i dati Istat sulla natalità in Italia. Questa è la pagina che abbiamo impostato insieme a lui la pagina 2 la pagina che effettivamente fa un po' cadere le braccia ecco qua il motivo l'Istat ci dice che abbiamo perso quasi 8 mila nati anche nel 2022 per la prima volta siamo scesi sotto i 400 mila nati ci pensiamo sempre in 60 milioni invece oggi gli italiani sono 58 milioni 850 mila 717. Adriano analizza le cause, butta lì qualche proposta, leggete con interesse questa pagina. Passiamo alle lettere perché come al solito sono molto molto interessanti grazie per tutto ciò che ci inviate. La signora Stefania condivide questa dolorosissima esperienza nel confessionale dopo che noi avevamo raccontato i due polmoni di Padova per quanto riguarda il sacramento del perdono che sono scronti il santo, il santuario di San Leopoldo e lei proprio racconta come ancora più di 17 anni fa abbia avuto una difficilissima esperienza che tuttora le provoca dolore addirittura scrive tremore, le ho scritto quasi d'impulso dopo il contenuto dell'articolo della chiesa con le braccia aperte saranno passati 17 anni da quando accompagnavo il mio fidanzato e leggete pure perché è una lettera veramente molto intensa vediamo anche se ci saranno delle risposte. Carrellata di notizie di chiesa molto ricche stasettimana perché ecco qua vedete come da qualche tempo a questa parte le 11 comunità etniche cattoliche di Padova sono contente di incontrare il vescovo Claudio e lo sentono veramente come un loro padre. Quando lo faranno? Domenica 26 marzo alle 16 in cattedrale perché chi parla è Don Romano Gnesotto, Gian Romano Gnesotto scusate di immigrante Spadova perché c'è la festa appunto delle comunità etniche cattoliche della città di Padova. Altre notizie, festa del biblico è al via in realtà nella città di Padova sarà dal 18 al 21 di maggio ma già al 30 c'è una preview, un pre festival appunto giovedì 30 marzo con padre Jean-Louis Ca che parlerà di Genesi 1-11 che poi in realtà fa da filo conduttore. Questo articolo però vi riporta anche tutte le date della provincia di Padova dal 13 al 15 aprile quindi leggete troverete moltissimi spunti, moltissimi appuntamenti a cui partecipare. Quest'anno Unitalsi festeggia i 120 anni e dopo la pandemia anche in treno, l'amato treno per tutti i soci, i balaglieri, le sorelle, i volontari e naturalmente gli ammalati, dal 16 al 22 luglio appunto va in treno nel santuario francese del sud, sui Piranei nel sud della Francia. Ecco questo è il logo per esempio dell'anniversario, molto bello. Talenti in campo incontro il Vescovo Claudio perché oggi il 26 marzo, questo anzi è il numero del 26 marzo ma il 2 aprile sono le palme pertanto vi raccontiamo come sarà la festa di quest'anno. Torna anche qui il giro delle piazze dopo che era stato sospeso per la pandemia quindi appuntamento che si ritrova. Questa settimana abbiamo anche sentito fra Alessandro Carollo, tienese di 47 anni. Perché mai abbiamo sentito lui? Perché è appena stato eletto nuovo ministro provinciale dei frati minori cappuccini del Triveneto, guiderà per i prossimi tre anni questa provincia ma già deve fare i conti con alcune chiusure e non sono chiusure da poco. Parliamo dei monasteri di Bassano del Grappa, di Rovigo e di Trento. Fra Alessandro che è praticamente cresciuto all'ombra del campanile del santuario della Madonna dell'Olma tiene con la propria famiglia ci racconta quanta fatica è a scegliere ma ci racconta anche un po' quella che è la sua nuova meglio la sua provincia di cui oggi è appunto il superiore. 25 sono i frati che si sono appena uniti dall'Alto Adige, 25 sono i conventi, 240 frati totali con alcune presenze in Angola, Mozambico, Ungheria, Grecia e anche Svizzera. Bene, continuiamo il nostro racconto del numero di domenica 26 marzo 2023 perché la lampada della pace è arrivata adesso a Montagnana dopo che il 15 di marzo c'è stato il momento di custodi di pace come vi ricordate avviato a novembre dal vescovo Claudio in cattedrale a Padova c'è stata la tappa di Abano ed è stata una tappa non solo ecumenica ma anche interreligiosa, ha partecipato l'imam eccetera eccetera, leggete tutto a pagina 21. Una storia molto curiosa, forse non tutti sanno che prima delle Barbie Monselice era la capitale italiana dei giochi, dai Puffi a Ufo Robo Goldrake. Una storia curiosa, chissà magari tanti di voi lo conoscevano, tanti di noi no, ma Monselice per diversi decenni del novecento è stata realmente la capitale italiana e non solo della produzione dei giochi, leggete perché, quali aziende, chi ci lavorava, ma la foto ci sembra già abbastanza eloquente. Ancora in velocità nel territorio bassa padovana, i videogiochi solcano l'ingresso delle aule scolastiche come strumento di apprendimento e di indagine della realtà socioculturale in cui vivono i ragazzi. Grazie al progetto Playground, creare videogiochi per raccontare il mio territorio. Gli studenti degli istituti comprensivi di Villa Estense, dei comuni della Sculdascia e di Borgo Veneto sono coinvolti in un percorso alla riscoperta storica della propria zona da proporre poi ai coetani attraverso il linguaggio videoludico. Progetto molto molto interessante. Vedete Tribano, Veggiano, parliamo di vari comuni del territorio della nostra diocesi. Intervista di Tatiana Mare d'Antonia Arslan in occasione dell'uscita del suo ultimo libro. Eccolo qua, Il destino di Agavni, edizioni Ares, scritto nel Natale del 2022. Leggete come al solito la interessantissima voce di Antonia Arslan. Vedete qui quella di Agavni è una storia che racchiude un messaggio di pace, di resilienza, di perdono, con tutta la fiducia che Antonia Arslan nutre nei confronti dell'umanità, senza distinzioni. Bene, con questo servizio del nostro Mosaico vi salutiamo, vi ringraziamo per l'attenzione e vi invitiamo a continuare a seguirci su www.difesapopolo.it e su tutti i profili dei social network targati Difesa Popolo. Grazie, arrivederci alla prossima settimana.